Benvenuto su Cosset Club. Prima di iniziare, ricorda di mettere un like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Mina vive in una città italiana, la rivelazione del conduttore, vabbè, ormai l'ho detto. Mina, icona della musica italiana, vive un'esistenza avvolta nel mistero, suscitando grande interesse per ogni dettaglio della sua vita privata. Da anni si sa che risiede a Lugano, ma emergono nuove rivelazioni. Durante l'ultima puntata della Volta Buona su Rai 1, emergono dettagli inaspettati. La conduttrice Susanna Messaggio e il conduttore Umberto Broccoli discutono della vita di Mina. Inaspettatamente, Broccoli rivela che Mina trascorre parte del suo tempo anche in Toscana, oltre che in Svizzera, scatenando sorpresa e curiosità. Nonostante la rivelazione, la location esatta in Toscana rimane non specificata. Tuttavia, si sa che Mina ha un legame particolare con la Versilia. Questo legame è ulteriormente rafforzato dal fatto che la sua bisnipote è nata in Versilia, aumentando l'interesse per questa zona. Le ultime foto pubbliche di Mina sono state scattate proprio in Versilia, confermando il suo amore per questa regione italiana. Anche se Mina ha ormai 84 anni, continua a mantenere una discrezione ferrea sulla sua vita privata, evitando celebrazioni pubbliche, come confermato dal figlio. Queste nuove informazioni su Mina aggiungono solo ulteriori strati al suo personaggio enigmatico, mantenendo alto l'interesse del pubblico e dei media. In conclusione, la figura di Mina rimane avvolta in un'aura di mistero, con nuovi dettagli che emergono solo sporadicamente, alimentando la curiosità dei suoi ammiratori e dei media italiani.